Allora, dato che la capra è un po' cattivella, vi insegna le piante quando è molto difficile da identificarle. Quindi, ad esempio, la borragine, ovviamente non ve la faccio vedere con i fiori, figuriamoci. Ve la faccio vedere adesso in febbraio quando è difficile da identificare, perché comunque mi serve per farvi un discorso importante, cioè che comunque ogni pianta, per essere identificata con certezza, a parte guardarla per tutto il periodo vegetativo, come vi ho detto più di una volta, bisogna guardare gli elementi caratteristici che ha. E è molto più difficile identificarla in questo stadio, ovviamente, perché dovete essere proprio bravi a notare gli elementi caratteristici. Quelli della borragine sono, per prima cosa, che le foglie sono picciolate, vedete? Vabbè, qua ne ho strappato un pezzo di picciolo, però sono picciolate. Poi, hanno una forma ovale, ok? Hanno un margine che è ondulato, infatti vedete che non riesco a tenerla, ma vorrei farvela vedere bella dritta sullo stesso piano, non ce la faccio perché è proprio ondulata la foglia, vedete? Il margine è leggermente dentato e ha questa nervatura in rilievo. Guardate anche dietro come si nota bene la nervatura, ok? Poi, vabbè, ha dei peletti come le borraginacee, la foglia è piuttosto coriacea, sempre come le borraginacee, e anche solo l'odore, adesso che l'ho strappata, è un po' di cetriolo. In questa fase, perché voglio farvi notare le caratteristiche distintive? Perché in questa fase ci sono due piante che possono essere confuse con la borraggine e sono la bandragola autumnalis, soprattutto in Sud Italia, e la digitale purpurea. La mandragola si riconosce perché ha un reticolo rugoso, quindi ricorda tantissimo, però qua in mezzo c'è una nervatura bianca molto spessa, cosa che invece la foglia di borragine non ha. Vedete che non c'è la nervatura bianca? E invece se io adesso avessi in mano la foglia di mandragola autumnalis, ce la posso fare, qua in mezzo noterei una nervatura bianca molto in rilievo. Quindi mi raccomando, ricordatevi i tratti distintivi e anche le piante che assomigliano a una pianta. Invece la digitale, oddio, la digitale purpurea in questa fase assomiglia tantissimo. Le foglie però non sono così appuntite, quelle della borragine finiscono proprio a punta. e non ha questo odore e sapore di cetriolo, è molto amara la digitale, quindi se per caso per sbaglio raccogliete una pianta, vi sembra borragine, l'assaggiate amara, attenzione non è borragine, perché la borragine cruda sa di cetriolo. Se mangiate un pezzettino di foglia non succede niente, sentite che è amara, buttatela via immediatamente. Ecco qua. Quindi questa qua è una rosetta di borragine, una rosetta che ha subito un po' il gelo, adesso col coltello lo taglierò, e ci faccio la frittata stasera. Guardate qua, qua c'è altra borragine, cioè pieno di stellaria media e borragine. Guardate qua, ancora borragine. Ok?